minuto più minuto meno sono le 15 e come avevo detto parliamo dello stress in questo video per quale ragione avevo annunciato e parlavo degli attacchi di panico dello stress ma poi il video ha preso spazio soprattutto sull'attacco di panico e quindi lo stress è stato messo da parte non tutti i mali vengono per nuocere per cui ora facciamo un secondo video sullo stress perché l'avevo abbinato con l'attacco di panico perché molti fuffa quelli che io chiamo fuffa cioè filosofi vaporosi o superficiali che non riescono ad andare al fondo delle questioni e che fanno fotocopie pure fanno semplicemente delle descrizioni di avvenimenti nemmeno fatte bene cosa mettono insieme mettono insieme la paura e lo stress uno dei più famosi puffa che c'è roberto re dice spessamente dove c'è paura c'è stress dove c'è stress c'è paura per cui sembra che uno sia la causa di un altro ora roberto re non ha mica tanta colpa nel dire che lo stress e la paura e di prendere lo stress come un'entità perché lui prende questa cosa da buon copia in colla dall'ordine mondiale della sanità e cioè da quel grande dizionario dell'ordine mondiale della sanità che definisce lo stress come una malattia un disturbo e poi fa effettivamente una descrizione precisa di tutte quelle situazioni a cui si mette l'etichetta stress il problema vero non è la descrizione degli avvenimenti dei comportamenti delle situazioni poi si mette l'etichetta stress perché ognuno di noi fa questo ogni scienziato guarda la realtà e poi ci mette un nome almeno a quello sintetico il problema vero è l'errore che fanno i medici in questo quando dopo aver messo l'etichetta su una certa comportamento o su certe reazioni degli individui nella descrizione di comportamenti o stati d'animo o d'altro ci mettono l'etichetta e poi questa etichetta diventa la causa di tutti quei malesseri che hanno descritto prima non solo con lo stress ecco dove c'è stress c'è paura dove c'è paura c'è stress lo stress diventa che è una parola un'etichetta diventa la causa di tutti i mali c'è stata la giornata mondiale dello stress ma che cos'è lo stress andiamo a rivedere la natura delle parole da dove sono nate queste parole questa parola sta a indicare è nata nell'edilizia nell'ingegneria edile ed è nata per indicare che cosa una esperienza precisa se si sottopone un pilastro di cemento a una pressione questo pilastro di cemento è in grado di piegarsi e dopo che si è piegato se tolgo la pressione il nostro pilastro di cemento ha una resilienza si dice scende cerca di tornare all'equilibrio precedente non tornandoci proprio preciso preciso a differenza fra l'equilibrio precedente e la resilienza il punto di resilienza si chiama stress o primo ma questa generalizzazione da un termine che è nato nell'edilizia e lo portiamo negli uomini e qui è l'errore che solo un medico può fare questo errore perché i medici sono abituati a fare fotografie e a mettere etichette e poi dopo aver fatto questo pensano di aver finito tutto ma bisogna chiedersi dopo che ho messo un'etichetta per quale ragione uno è stressato qual è la causa vera dello stress o qual è la causa vera di tutto quel comportamento a cui ci ho messo l'etichetta stress come sappiamo col pilastro di cemento che la causa vera è che quel pilastro di cemento non è terribilmente elastico se lo sottopongo a una spinta si adatta e tende a ritornare e quindi non è elastico quella è la causa e quella cosa che ho descritto come stress sto a descrivere quello liato tra l'equilibrio precedente e l'equilibrio che riesce a ottenere tramite resilienza chiaro quindi arrivo alla conclusione che quella cosa lì non si riesce a colmare perché il nostro pilastro di cemento non è elastico abbastanza da essere sottoposto a uno stimolo ritornare come allo stato precedente non si può fare la stessa cosa con gli uomini anche perché l'uomo e non lo vuoi sottoporre a una spinta come un pilastro di cemento e tutti gli uomini non reagiscono allo stesso modo alla spinta perché gli uomini non reagiscono allo stesso modo eppure i medici ce l'hanno davanti a sé le esperienze dell'effetto placebo di come il 30 per cento di persone con una boccettina di acqua di zucchero guariscono da una malattia diagnosticata bisogna piazzare delle medicine in campo il 30 per cento guariscono con lo zucchero con l'acqua e l'altro 30 per cento non guarisce con nulla gli metti il principio attivo che più o meno abbiamo ipotizzato abbiamo sperimentato sugli animali col principio attivo col 30 per cento di queste persone non non ha nessun effetto questi sono gli uomini dobbiamo chiederci per quale ecco anche qui i medici di effetto placebo e finiscono lì ma per quale motivo si produce un effetto placebo qual è la causa di un effetto placebo in un modo o nell'altro gli antichi lo avrebbero chiamato intelligenza titanica o intelligenza animalesca fatta di causa ed effetto di fotografia manca quello che agli uomini e ai ricercatori su questo campo che erano una volta i filosofi psicologi o religiosi antichi la capacità introspettiva la capacità di chiedere per quale ragione una cosa avviene ebbene per quale ragione noi abbiamo un effetto placebo positivo un effetto placebo negativo e per quale ragione non possiamo identificare un etichetta e porla al al come come causa come causa delle paure degli attacchi di panico del lancio tutto il resto è diventato un deus ex macchina di tutti gli altri guai o l'uomo a questo organo che media fra il corpo che corpo sta male non i pensieri il corpo sta male e media col mondo esterno perché quello che si sperimenta negli animali con gli uomini non funzionano quasi mai abbiamo preso principi attivi che gli animali hanno funzionato con gli uomini 30 per cento degli uomini non funziona nulla questa le diamo l'acqua o lo zucchero che non dovrebbe guarire niente talmente questi guariscono come mai perché quest'organo pensa sì e i pensieri pensieri della nostra funzione umana soprattutto pensieri che la nostra funzione umana crede veri sono azioni si incarnano diventano automaticamente azioni e da dove le vado a prendere queste cose e questa è l'osservazione che bisogna fare di notte quando sogniamo e abbiamo un incubo c'era qualcuno c'era una roccia che ci cascava addosso c'era una palla di cannone che ci veniva addosso c'era qualcuno che ci stava infilzando no era il nostro pensiero che la roccia ci cascava addosso quindi un pensiero di pericolo e abbiamo avuto batticuore a duomila non è lo stress che crea paura eh fuffa non è lo stress che crea paura ma il pensiero titanico animalesco ha bisogno di cause ed effetto e entifica ciò che non si può entificare un'etichetta è un'etichetta non può diventare una sostanza causa addirittura di altre cose questo è un errore logico madornale e molti ne fanno una scienza molti diventano formatore degli uomini pensando di aver capito tutto dell'uomo per cui venite da me vi formo si vi formo qualunque concezione che riguarda quest'organo può diventare una mappa cognitiva io posso essere credibile soprattutto con questi computer posso rischio di essere credibile come medico rischio di essere credibile perché appartengo a una classe sociale agiata ma la mappa cognitiva di come funziona l'uomo è errata e questa mappa cognitiva errata comincia a guidare i nostri passi comincia a guidare la nostra vita e quindi rischiamo di inceppare e di spaccare quest'unico organo che la vita ci ha dato per poter mediare efficacemente tra il corpo che l'essere vivente e il mondo esterno sia per ottenere le cose sia per proteggerci dalla infelicità che un oggetto esterno oggettivo può dare al nostro corpo noi a differenza di un serpente noi siamo svincolati dalla realtà esterna noi siamo all'apice dell'evoluzione e l'apice dell'evoluzione è dal serpente totalmente condizionato dalla realtà esterna per cui si comporta quasi esattamente come un ramo di un albero che arriva a una certa temperatura e fiorisce così questo serpente arriva a una certa temperatura e comincia a camminare se fa freddo lo potete accappare il serpente perché non si sa più muovere dipende totalmente il simbolo della saggezza è fatto da qualche saggio antico è un serpente che si morde la coda vuol dire che quando noi diventiamo destinati a diventare saggi cioè far sì con la nostra funzione umana ripensando le proprie azioni ripensando se stesso ripensando il fatto che di notte possa avere un'eiaculazione un sogno bello e non c'era nessuna donna che una donna può avere un orgasmo straordinario non c'era nessun uomo ripensando su questo fatto si arriva alla conclusione che che sono che noi siamo svincolati dalla realtà e che la nostra felicità o infelicità non dipende dal mondo esterno ma dipende semplicemente dai nostri pensieri e se noi seguiamo questa scia riusciamo a capire anche perché ci inceppiamo perché quando ci innamoriamo e qualcuno ci lascia siamo siamo lì a soffrire come degli stupidi il mondo è fatto di sciocchezze prese seriamente sciocchezze possiamo benissimo dire che è tutta una sciocchezza e quando io arrivo all'apice dell'evoluzione e il serpente si morde la coda che significa? che quando sono saggio posso tornare ad essere aderente alla realtà come un serpente ma devo diventare saggio per tornare ad essere aderente alla realtà perché la mia evoluzione mi porta a essere svincolato totalmente dalla realtà solo se torno saggio i miei occhi, i miei sensi possono avere una speranza di poter essere aderenti alla realtà ma stranamente molti di noi in questo processo evolutivo si fermano a metà a metà a livello animalesco e cioè quello che vedo fuori è vero è oggettivo per cui mi devo salvare dal mondo oggettivo se non sto male e ci si inventa anche un'etichetta che diventa qualcosa di oggettivo causa di tutto per cui stress da lavoro stress da studio stress da sportivo stress stress di nulla se sono strezzato vuol dire che io sto pensando male che sono inceppato voglio raggiungere un obiettivo non ci riesco e non ci riesco perché? perché devo diventare autoconsapevole il fatto che non ci riesco scatena un inferno emotivo io sono destinato la mia mente umana è destinata a fare atti di pensiero su atti di pensiero atti di pensiero sulle mie reazioni di fuga o di attacco per capire quando ho reazioni di fuga o di attacco per capire quando io riesco e quando non riesco quando con tutte le mie buone intenzioni rischio di fare il contrario è questo che deve capire la nostra funzione valutativa se capisco questo il mondo può girare come vuole io posso fare tutti i progetti che voglio dal più cretino perché bene o male non possiamo smettere di desiderare perché il nostro corpo è un essere vivente soggetto ai pistoni dello squilibrio dell'equilibrio la mia stessa mente che ricorda le cose può desiderare che le cose ritornino come prima e a questo punto che succede? Che io rischio effettivamente di fare che? Devo capire che la mia felicità e la mia infelicità il mio successo il mio insuccesso non dipende da ciò che è ma dipende da come guido questa macchina mentale e proprio perché mi vado a incastrare c'è una buona ragione ciò che è reale è razionale diceva Hegel quindi se mi incastro se non riesco a ottenere quello che voglio se quando voglio voglio dormire non dormo poi vado a Pippo Baud e dormo c'è una buona ragione per cui andando da Pippo Baud e dormo e devo capire quella buona ragione per capire me stesso quando capisco me stesso e quando almeno so che il mondo è fatto di fesserie prese seriamente io in qualunque circostanza di lavoro di studio di tutto il resto il mio corpo non sarà stressato perché i miei pensieri sono pensieri di pace nel senso che sono desidero e poi qualunque cosa può succedere non posso fare altro devo risolverla quando succede quello che noi chiamiamo stress perché ci inceppiamo invece stiamo inceppando semplicemente un cervello e perché noi desideriamo una cosa il futuro è incerto e cerchiamo aghi nel pagliaio per fare quella cosa e nello stesso tempo non beccarci la cosa opposta questa operazione qui io non la chiamo stress la chiamo il nostro buco il nostro nodo da cui dobbiamo uscire che immobilizza la nostra vita che ci fa diventare dei minotauri e ci fa entrare in un labirinto questo è il nostro problema entrare in un labirinto inutile in cui stiamo lì a pensare e pensare ma è un labirinto necessario è previsto dalla nostra evoluzione cioè la nostra mente deve proprio sciogliere questo nodo per capire che noi siamo svincolati dalla realtà che non c'è niente che può nuocerci se prima non passa tramite la valutazione prima viene la valutazione prima viene il pensiero e poi viene la sofferenza non prima la sofferenza e poi il pensiero e anche quando la sofferenza può avvenire perché direttamente un pugnale becca o un martello becca il mio corpo e il mio corpo che sta soffrendo sollecita la mente a fare qualcosa ebbene la mia mente può non aggiungere male a male se so che sono i miei pensieri sono delle azioni quindi a quel punto bevo il calice amaro e spero che passi presto sarò stressato no prima o poi andrò via e sarò quieto non reagirò a un malessere aggiungendo malessere perché so che i miei pensieri sono azioni che il mio corpo soffre più per i miei pensieri anziché per una martellata diretta sul mio alluce buon pomeriggio grazie a tutti